Con 20 proiezioni selezionate fra 120 film e corti di 31 paesi, si svolgerà dal 4 all'8 ottobre la seconda edizione del festival cinematografico Pianeta Mare, presentato questa mattina in Villa Comunale. È un festival che abbiamo ideato l'anno scorso per celebrare il fatto che a Napoli sono nati sia la moderna biologia marina con Anton Dorn, sia il cinema con Etienne Jules Marais. Questa seconda cosa è poco conosciuta ai napoletani. Le proiezioni si terranno al Cinema Academy Astra, nel centro storico, al Museo Darwin Dorn in Villa Comunale e alla città della scienza di Bagnoli. Prevista anche una maratona di film a soggetto mostruoso dal titolo La natura si ribella. Gli studenti delle università napoletane e non solo produrranno dei film con i loro smartphone, perché ormai si possono fare film con questi macchinari, film di pochi minuti che verranno realizzati durante il festival e verranno proiettati alla fine del festival. È un evento molto bello che oramai già si è consolidato nella nostra città, un festival tematico che riguarda il mare in una città di mare e che vuole riconquistare il rapporto col mare. Quindi è un'iniziativa molto significativa che noi come amministrazione stiamo sostenendo proprio perché fa parte anche di questo percorso culturale di riappropriazione di uno dei beni più importanti e più identitari della città che è proprio questo straordinario rapporto col mare.